E alla tua sinistra puoi vedere gli spaccateste, tutto qui è al sicuro, perfettamente al sicuro. Imo? Imo? Attento! Sei ferito? Non credo. È lei? Io sto bene. Alzati, Imo. Non è più sicuro stare qui. Andiamo. E adesso? Vedrai. Vedrai. Imo! Per di qua. Seguimi! Mi? Stop. Vedrai! Mosin isato. Va bene! Corrimo! Tu non presti attenzione! Io volevo solo rispondere al telefono! Emo, ecco, ascolta! Devi imparare ad ascoltare! Questo non è un gioco! Tu? Noi possiamo morire facilmente fuori di qui! Ascolta! Ascolta il suono della macchina! Ascolta il tuo respiro! Sì! Raffa e ultimi spettacare! Si tu fai... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che vuoi diventare, carnetrita? E questa è la tua massima aspirazione nella vita? Carne! Ehmon, chiudi gli occhi? Perché? Ora! Va bene. Bene. Cosa vedi alla tua sinistra, Ehmon? Niente. Davvero? No, niente di niente. Davvero? E alla tua destra? Cosa vedi alla tua destra, Ehmon? Lo stesso, Prug. Esattamente lo stesso. Niente! Bene. Ascolta, Prug. Lo senti? Possiamo entrarci? Lì? Sì. Non è sicuro, Ehmon? Ma... Ma... Fidati, è meglio di no. Ma forse io posso... No! Qualche altra domanda, Ehmon? No. Ehmon? Sì? Ehmon, perché? Ehmon, perché? Perché non riesci a cogliere la bellezza di questo posto? Il modo in cui funziona? Come... Come perfetta? No, Prug. Io non lo vedo. E non lo vedo perché non c'è niente. E perché dovrei affidare la mia vita a qualcosa che non esiste? Me lo dici? Ehmon... Rispondimi! Prug? Sei un uomo malato. Sta lontano da me. Ehmon? No, Ehmon, è una trappola. Oh, sì, una trappola. Alla tua sinistra puoi vedere... I giardini di Babilonia. Ti piace questa trappola? No, Ehmon! E alla tua destra puoi vedere... Oh, ma guarda! Il Colosso di Rodi! No! Il Colosso di Rodi! Ed è qui solo per te, Prug! Solo per te! Ehmon! 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 Era lì! Te lo stavo dicendo, Rimo! Era lì! 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 Poxidrat! Cosa! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.